Ciao ragazzi, bentornati su Giovanacchi Club, un canale orribile, brutto, orrido, tremendo Insomma, bentornati sulla feccia di Youtube Oggi voglio fare un gioco competitivo Si chiama Domino Sky L'ho iniziato prima Sono arrivato al livello 4 Aspettate che abbasso un attimo il volume Non si può abbassare il volume Ce lo teniamo alto Si può solo spegnere Vabbè, io sono arrivato prima al livello 4 E in poche parole, in questo gioco Noi dobbiamo semplicemente mettere i pezzi di Domino E così E poi dobbiamo prendere tutte queste belle sferette qua E poi la stellona grande in fila È complesso, sì Però ha una competitività molto elevata Vediamo qua Ok, qua prendo il cerchio Mettiamo qui 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 Un altro qui Adesso possiamo girare per andare da quest'altra parte Qui Qui E qui Ok, qua dovrebbe prenderle tutte Giriamo, lo mettiamo così Bliff, bliff, bliff Facciamo andare così Così Ma io lo facciamo andare a prendere la stellona grande Vediamo se così facendolo all'ammuzzo può venire Ok Vediamo se riusciamo a prendere tutte le stelline Vai Vai, 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 vai Come? Traditore di un pezzo Guardalo lì Mannaggia te Com'è che si ricomincia? Ehm Oh Mannaggia te Perché non ti sei mosso Qualcosa ti manca un pezzo Mi mettiamo un pezzo Metti Metti Vai Vai, 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 uno, 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 uno Ma perché? Prima qua era andato Chi è quello che sta succedendo? Qui Ok Che adesso non vai più Adesso ne metto un altro qua in mezzo Tiè Vai Vai, 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 vai Ah, bisogna Prima prendere tutti i pallini Poi andare a prendere la stellona Come cavolo si fa? Bella domanda Bella domanda Bella domanda Bella domanda A meno che anche non vai Direttamente qui Poi fai un giro più lungo Torni indietro E nel farlo tornare indietro E nel farlo tornare indietro Mi fai fare una cosa di questo tipo Boh, proviamo Sto pensando Sto pensando Bisogna pensarci attentamente Perché bisogna prenderle tutte con i pallini lì Così, così, così Così ripeto Poi vai Poi vai Poi Prima bisogna andare qua No, aspetta Però così non va bene Lo sto rifacendo come prima Facciamo fare un percorso di questo tipo Noi andiamo direttamente qua 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 Qui 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 Poi dopo Da qui Li facciamo fare un bel giretto Bello lungo Bello, bello, bello lungo Vediamo Proviamo Lo facciamo così Così, così Così Intanto forse per andare anche questo pezzo qua Lo giriamo Lo facciamo fare un bel giretto Lo facciamo fare un bel giretto Lo facciamo fare un bel giretto Ok, testiamo il dom Vediamo se così può andare bene Vai, 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 vai Ah, però dai Qua non gira Ok Ok Perché non va Prova Ciao biondo Ciao biondo Vieni qua Aiutami Vieni quel cancro lì di merda Aiutami qua Allora 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 Noi Devo fare il domino Devo prendere tutte queste sferette qui lucicose Poi andare alla stella Allora Allora Fammi fare un bel giretto Bravo Provaci te Dai Allora Allora Tutto un cosetto qua Com'è? Com'è lo posso girare? Eh Devi fare così Con la rotella Un po' come vedi? No Ormai mi sono già seduto Come la mettiamo? No Allora Poi tu biondo C'è una cosa che non ti ho detto No Guarda lì Va bene Sai cosa sto facendo? No Sta registrando Per giovanocchi Per giovanaschi Per giovanaschi E vabbè dai Spostati Venite qui Scambio tattico di giocatore Vai Via Oh Per farlo partire Il premio giglio Tu c'hai mai fatto? No Lo stavo facendo una sciocca Per la prima volta Ma non mi è venuto bene E oggi? Ho iniziato Partirà dalla la dove c'è la mano No No Per riavviare esco Vio Dov'è? Qua Riavvia Oppure l'alto se vuoi cancellare i pezzi Allora Tu e io? Te la faccio così Eh ma devi prima prendere tutte le sfere e poi dopo andare dalla stella Io te lo ricordo Metti caso che non te lo ricordi Così Ah ben 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 Questa qua ho capito Aspetta Come faccio per me Ok Com'è che si cancellano i pezzi? Io non li ho mai cancellati Com'è anche così Vabbè va bene Devo cambiarne uno La cancella O se vuoi puoi cancellare tutto Se non ti piace Rinchi e riavvia tanto guarda Ah riavvia come? Eh sempre esco Poi fai l'altro tasso Il secondo Il secondo Restart liberclair al dominos Non ho sentito la vampata di fragola Eh sono la fragola giusto? Eh Allora non l'ho sentita per fortuna L'odore di fragola fa schifo lo sa No No Quindi Oh la E qui a piaccia Come si sta venendo? Vabbè Bene Ok Allora ho provato a fare cose di questo tipo eh Però succede Non almeno a me prima è successo che Prima vanno a prendere Va a prendere la stella Poi va a prendere tutti i pezzi È solo che se lo fai in quell'ordine lì Il gioco dice che non va bene Proviamo Allora si si prova Però io così c'ho freddo Oggi c'ho freddo Dammi la coperta Dai qua c'è un sacco Purtroppo lì c'è troppo Che poi vanno a prendere Ah guarda che appena cade Tocca e va avanti al prossimo Non funziona così il domino Purtroppo Non si troppo Dovevamo ne andare di più col Dobino da piccoli E già è andata anche a battere Ma se avremmo fatto qualche partita assieme Ti dà fastidio con più interlinato? Sì Dopo lo spostiamo Voi abbiamocio Gi 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 Eee Gi gi Mammammammammammam Mamam Ce l'ho fatta? No, non ce l'hai fatta Mmmmmh pensare biondo pensare pensare provo e devo saltare vai vai facci sognare biondo allora ristaltiamo tutto va bene contento adesso una forza un po' va va sentite quanto è potente la ventola del pc tanto finisco le goccioline per biondo facci sognare ma forse non 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 vero se tu scoleggiare sono io allora un po' sei cane perché non c'è si ma poi è l'unico venti della giornata in cui flusher dove è giù un po' ma viene un po' di senso adesso non c'è però utile dalla regia mi dicono che quell'ultimo pezzo sarà fondamentale ma cosi fai la stessa identica cosa che hai fatto prima non fai il giro non fai fare un giretto però fai fare un giro di 10 secondi non lo fai girare ti faccio vedere quel mio piano originario prima che tu venissi a rovinarmelo e allora fai i testa tu che è storti perché è bello ok non verrà mai è perfetto è divino vediamo aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai L'intrufoli uno lì dentro No, l'intrufoli uno lì dentro Devi metterlo lì in mezzo No, no, va bene anche così Oh, ce l'hai fatta Ce l'ho fatta Non l'avevi mai detto, te lo giuro Esattamente come l'hai fatto prima Ma però non si sa come Adesso te l'ha dato giusto Non sei un barore Dai, anche qua Ma vabbè, fammi il livello successivo Muoviti Questo qua sembra più facile Non fatti Hai, dai, ne fai una di dritta Ne faccio una di dritta Lo dividi in tre Ah, però non lo so, forse col fatto che scende Non lo so se influiscono, sai No, ma tu metti in cima qua Aspetta Non posso mettere qua Ah, ecco il trabocchetto No, non è un trabocchetto Perché semplicemente Faccio così, faccio così Qua c'è la direzione E poi cadono O devi fargli cadere però tre E infatti E infatti vi faccio cadere un nonno Bravo vai Di mostrare i tuoi skills Adesso Con me è un po' bella Alla Chessa No, no, dai C'è cosa che fare Allora Adesso E' una cosa tipo non mi ispira è un mio parere poi se te ce la fai il primo tentativo sono contento basta mettere uno qua si continua ok va qua ok fatto gg efe efe pensavi no troppo montale troppo montale ma c'era il tentativo io c'era ah si dai c'era io ce l'ho capire la posizione giusta per farli cadere tutti i scemi ecco c'era lui che è andato perché ha cancellato efe 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 però vabbè tanto non ha tanto il figlio è meglio mettere qualcosa oh è perfetto allora non devo metterli troppo vicini perché perché ho solo da un peso beh efe 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 questa prima parte efe 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 forse no scusa prendete il gatto piuttosto più bello non puoi cambiare il colore beccato come non c'è chi ha selezionato metti in pausa pigiali no, non hai messo niente è un disastro provo così clicca qua tante volte provo a far così no perché no ingiustizia bella e buona questo questo è complesso aspetta vai a vedere là sotto che passaggio c'è da fare qua devo far cadere qualcuno no scusate devi farli cadere così preventivo preventivo perché sa che devo far cadere ok io metto un clicca da qui e qui ok ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti